La struttura a base di Acli annuncia l'approvazione dell'ammortizzatore sociale per l'area di crisi di Battipaglia. La profonda crisi, che ha colpito molte aree del sud Italia, non ha risparmiato negli anni la Piana del Sele ed in particolar modo il territorio cittadino battipagliese. A dar voce alle istanze di lavoratori, Proattiva Famiglia Viva, struttura di base Acli preseduta da Antonio Guglielmotti. Un lavoro costante che ha avuto come risultato l'approvazione in Senato dell'emendamento, un provvedimento che garantirà per 12 mesi la copertura con ammortizzatori sociali anche per lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga. Sulla vicenda, soddisfatto il presidente provinciale Acli, Salerno Mastrovito e l'amministrazione comunale della sindaca francese.